In un momento in cui le scuole, dopo aver riaperto i battenti, ricominciano a programmare l'attività didattica e l'inizio delle lezioni, si apprendono notizie sulle graduatorie dei docenti. 243 donnei delle graduatorie di merito del concorso ordinario 2020 saranno immessi in ruolo. 454 gli immessi in ruolo a conclusione delle prime procedure connesse al concorso nazionale PNRR. 1.531 i docenti assunti dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado. 4.316 le richieste accolte di assegnazione provvisoria interprovinciale. Questi dati sul lavoro svolto da parte dell'ufficio scolastico regionale siciliano e del direttore generale Giuseppe Pierro. Sulla base di questi dati e soprattutto sull'assunzione in ruolo dei 243 donnei del concorso ordinario del 2020 e sulle 4.316 assegnazioni provvisori interprovinciali, non dimenticando l'impegno del Ministero dell'Istruzione del Merito all'assorbimento di tutti i vincitori dei concorsi del 2016, 2018 e 2020, si è detta particolarmente soddisfatta la senatrice di Fratelli d'Italia Ella Bucalo, membro della Commissione Cultura e Istruzione del Senato e vice responsabile del Dipartimento Istruzione del Partito. Dalla Sicilia alla provincia di Messina, la città metropolitana ha pubblicato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la concessione delle palestre e impianti sportivi nonari extrascolastici delle scuole medie di secondo grado e la procedura per l'affidamento del servizio di trasporto per studenti disabili frequentanti le scuole superiori per 207 giorni ed un importo di oltre 2 milioni 400 mila euro. Grazie a tutti.